Che c'è? Sono stato con un'altra. Quello che ti è successo può succedere. Noi abbiamo fatto un patto quando abbiamo deciso di andare a vivere insieme. Te lo ricordi o no che abbiamo fatto un patto? Se ti sei innamorato, cambia tutto. Se dici ora la verità, tu salvi la vita a tutti. Ti sei innamorato. Nessuno voleva fare del male a nessuno. Tu non te ne vai da nessuna parte. Papà dice che con noi si sente in prigione. E noi allora adesso che facciamo? Lo imprigioniamo. Ma tu perché stai con me? Non voglio sentire nominare quel nome mai più. Forse ho capito perché volevo così tanto che tu tornassi. Perché dicevo così, se torna posso andarmene io. In questa casa ci sono cose che tu non sai. Tu hai un'unica soluzione. Tu, io, Sandro e Anna. Per essere insieme, bisogna parlare poco. Indispensabile. Hello, everyone. My name is Adrian Wootton, and I have the pleasure to be the curator of Cinema Made in Italy, a long-running programme showcasing the best and brightest new films of contemporary Italian cinema. And normally, this would have been a live event in London with a whole group of films and exciting filmmakers. Unfortunately, the circumstances this year have prevented that happening. But actually, with the brilliant and ongoing collaboration of Film Italia, Cinecitta, Instituto Luce, we have been able to do a special partnership with the platform MUBI, and nine new Italian films are being presented from the 16th to the 29th of April on MUBI. And as part of this, and again with the terrific support of Film Italia and the Italian Cultural Institute, we have the use of the Italian Cultural Institute Vimeo Channel to present online interviews, Q&As with the filmmakers whose work is being presented as part of the MUBI programme. And I'm really delighted to be able to host these interviews and talk to these fantastic filmmakers about their brilliant new films that you're going to get the opportunity to see. I wish we were seeing them in cinema, but this is the next best thing. And it is wonderful that the cinema, the filmmakers have given up their time to be available to chat to me about the films. And I'm really, really delighted that this particular interview is with an old friend and colleague of the London Film Festival of Cinema Made in Italy, Daniele Lucchetti, who's presenting his new film, The Ties, which had the honour of opening the Venice Film Festival last year. And it's a really wonderful film with a terrific cast based on an amazing novel. So it's a real pleasure. Welcome, Daniele. I'm sorry that we're not seeing you in person here in London, but it's great that you've made the time to join us. And it's such a pleasure to see you. You know, my son is living in London. I don't see him since a long time because of the COVID, you know. I don't want to talk about it. Well, hopefully soon. I'm looking forward to getting back to London soon. Yeah, no, hopefully soon. Well, I won't particularly dwell on the last time we met each other when at the London Film Festival, I think six or seven years ago, we had one of your films and a projector explosion. That isn't going to happen today, I'm pleased to say. It's just going to be a very straightforward conversation. And I'm pleased that we have our longstanding partner and translator, Stefania, here as well to speak and translate our answers. So let me kick off and congratulate you on The Ties, Lachi. It's a really, really impressive, powerful drama, powerful contemporary drama. And I'm just wondering because it marks a kind of a sort of reunion for you because the novelist, who is also one of the co-screenwriters, Domenico Starnoni, is someone who you worked with many, many years ago on some early films. I think your fourth feature, a scholar, you worked with him again in 98. But you haven't worked together as far as I can see for many, many years. So what led you back to this creative relationship and why did you want to adapt his novel? Domenico Starnoni è stato per me una persona, un artista estremamente importante, ma credo di esserlo anche io per lui perché negli anni in cui ci siamo conosciuti, Domenico era ancora un professore di liceo attraverso i film che ha fatto con me ha potuto dedicarsi di più alla scrittura, ha potuto trasformare come dire, i suoi piccoli romanzi in grandi romanzi. Dopo un pochino ha lasciato l'insegnamento, è tornato a essere uno scrittore puro, ha cominciato a essere uno scrittore puro e devo dire la verità che è decollato. Io penso che i suoi romanzi che sono usciti negli anni successivi siano stati veramente delle pietre miliari della letteratura contemporanea e in particolare questo piccolo romanzo Laci mi ha fatto capire a che punto la sua introspezione fosse arrivata, a che punto fossero come dire, il suo percorso artistico che faceva i conti sempre con gli stessi temi, cioè con le relazioni, con le separazioni, con le coppie e evidentemente ci siamo intersecati come col desiderio di fare commedia tanti anni prima, con il desiderio di affrontare un dramma e soprattutto di fare i conti con quello che nelle nostre vite nel frattempo è accaduto, appunto separazioni, rancori e amori in qualche modo distorti. Ci siamo ritrovati con un enorme piacere e accompagnati da Francesco Vincolo con cui ho fatto il secondo film di seguito che è stato un ottimo partner che ha tenuto le distanze giuste fra me, Domenico, la scrittura e il film. And that leads me on, thank you for that. That leads me on because I was going to ask you about the development in the sense of the script because the novel, if I'm right, I think is narrated by the main film of our characters in the first person and what you have in the film, one of the things that's really impressive about the film is it has quite a complex structure in terms of the way in which it organises time and uses flashbacks and memories and you're flashing backwards and forwards in time and that's one of the beauties I think of the film and its elegance and I just wondered how difficult it was to translate the very different structure of the book into that elegant complex but intelligible structure of the film. Il mio primo passo è stato quello di avere fiducia nelle parole sembra strano dirsi quando uno deve fare un film tratto da un romanzo la prima cosa è traducere in immagini e io ho pensato che in questo caso dovevo fare molta attenzione a non sottovalutare l'importanza e il peso che la precisione delle parole aveva sul lettore quindi il mio primo obiettivo è stato quello di mantenere la forza delle parole e quindi di aver fiducia nel parlato nel parlare nella voce umana e la mia invenzione è stata quella di voler fare del personaggio principale un conduttore radiofonico non tanto per per vivacizzare la storia ma proprio per venire incontro per far leggere meglio al pubblico di parole parleremo e con le parole parleremo al pubblico e secondo me una volta che ho preso confidenza con questo strumento che al cinema spesso sottovalutiamo sono venute anche le immagini è venuto anche tutto il resto filmare le persone che parlano che si fa sempre si cerca sempre di farle in maniera elegante ma questa volta ogni parola crea attorno a sé un'aura un'aura in qualche modo uno spazio che è stato stimolante filmare ho anche deciso ad esempio a volte di togliere completamente l'audio o di girare alcune scene in delle stanze prive di anecoiche cioè le stanze della radio sono prive di risonanze proprio perché volevo che la parola fosse strutturante ma volevo anche la libertà di toglierla in ultimo va detto che ho scelto di montare il film io perché ho avuto un rapporto molto intimo con la scrittura e con le riprese volevo averlo anche al montaggio ho chiesto poi una supervisione ad una bravissima montatrice francese che è Aelle D'Ayer Vega ho visto un suo bellissimo film e ho chiesto a un certo punto di venirmi in soccorso quando pensavo di aver spremuto il film e di aver bisogno di un impatto esterno però è stato un film con cui ho avuto un rapporto intimo e continuo è molto interessante perché è molto chiaro la forma la sensazione è integrale la fatta la father è present quando non è presente quando la children are listening to him in the room la mother è reattata la cosa che dice e che è una delle bellezza di il film è la forma in cui si mangiate usare la sensazione e la language e che è un literary household ma una cosa che molto è la la è la l'amore questa la storia una marito e l'impacto di l'amore di l'amore di la l'amore e l'amore 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 un intense very intense emotional tone about it without being hysterical but it also seems to me and I want to know whether you agree with this Daniele it seems to me that there's a savage black comic satire underlying this film it has a kind of savagery of master satire and I wonder because it's not just a it's not just a powerful depressing drama it has a wit and a satirical edge to it and I just wondered would you recognize that do you think of the film being satirical and how difficult was it to get that tone the tone of the film right I think that the tone crudele that there is in the film is derived from a sottrazione that is from the renunciation to the comedy I am a writer who often has been to the fun of the fun of the drama to try to find another tone possible I this time I have rinunciato al comico ho rinunciato al buffo ho rinunciato alla sottovalutazione di persone al sottovalutare i personaggi per in favore della crudeltà nella loro descrizione cioè avrei potuto molte volte come dire sminuirli avrei potuto molte volte farli vedere nel loro ridicolo no ho voluto prenderli sul serio perché prendendo sul serio i personaggi ho trovato un nuovo tono per me ma soprattutto ho pensato che fosse più giusto per il pubblico pensare che il narratore è il primo a credere in loro anche quando hanno delle reazioni esagerate anche quando stanno sbagliando stare sempre dalla loro parte con molta serietà ecco questo credo che sia il cambio di registro importante per me il film plays con all questo all about the connections the visible but the invisible connections the things that hold people together even when they fallen out of love and I wondered in terms of how you use that it ripples beautifully through the film and it's not used crudely it's not overused it has a subtlety that you keep on coming back to and I just wondered how important was it to you to to be able to express that that sort of metaphorical sense of of the film and the importance of of those ties mi sembra che 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 ha spiegato benissimo le mie intenzioni ma vorrei aggiungere anche che il film parla anche di come i legami possono essere tossici e di come quando ci rispecchiamo nell'altro troviamo un'affermazione di noi stessi anche se il rispecchiamento dell'altro è il rispecchiamento di un fallimento cioè il personaggio principale trova nella dimensione fallimentare del tornare insieme una reale identificazione del vero sé io esisto sono giusto nel momento in cui l'altro mi dimostra di aver fallito l'altro mi dimostra di non aver permesso la mia vita di essere guidata dall'amore ora questo potrebbe sembrare un legame tossico ma è uno dei tanti legami possibili il personaggio il protagonista maschile è un qualcuno che non sa vedere su se stesso la libertà non sa vedere se stesso come una persona libera e si quindi si intrappola con questi lacci che confermano di sé l'immagine a cui crede di più quella di un fallimento e una cosa che sembra che se si c'è si che bind us ma sono anche ropes che trappi them che sono imprisoni them è una cosa è la funcione di il film e i am impressed non only di cinematografic ma produzione design perché what you seem to conjure is a is a you know these elegant beautiful apartments and and their apartment but the apartment is both a a place of you know of intelligence of reading of of history but also the way in which it's constructed it is also a prison it's also a closet it seems to me to be a claustrophobic environment that they can't escape from um would you agree that i mean because it seems to me that that the way in which you have the film designed and 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 the environment you place them in is um is something that that reflects their personalities but also is trapping them. Beh, anche qui lo stile deriva da una rinuncia, da una rinuncia consapevole. La storia era a metà da Napoli. Napoli è la città d'Italia dove il sole, il panorama, la visione, il mare dominano su tutto. Io ho deciso di mantenere di Napoli tutto eccetto il sole eccetto l'esterno e ho voluto girare a Napoli perché volevo che un'energia aggressiva arrivasse dentro il film perché Napoli è anche quello e una volta deciso questo lo stile anche qui è venuto da solo cioè togliendo quello che il mare si vede solamente attraverso due palazzi un paio di volte è accennato o durante la terribile vacanza che passano i due la coppia quando ero più anziana e anche qui togliere è stato quello che mi mi ha fatto trovare lo stile. Il lavoro con costumi, scenografia e fotografia ha contribuito a fare di questo dramma, ha contribuito a creare un'immagine spero non televisiva. La cosa che avrei detestato è fare un qualcosa che anche come dire un dramma televisivo avrebbe potuto fare. Abbiamo cercato di filmare i volti come se fossero dei paesaggi e di non filmare affatto i paesaggi. And I'm just picking up on that I mean I think what you said Daniele about not being a TV movie this is I mean that's one of the things I loved about it it's a movie it's it's very cinematic you your conscious decision to to move into the interior space and not use the picture postcard of Naples or Rome um seems you know a really really very very wise and intelligent sort of cinematic choice but at the same time there's no two ways about it you're in a rich textured complex cinematic landscape and and I think that's quite clear to me and I wanted to just move on and talk to you though about performance and casting you know the let's talk first of all about the character of Vanda of Alba Roacca because this is again a kind of reunion I don't think you've worked together since is it 2007 and my brother was an only child and I was I was trying to work it out but it's a long while and obviously in that time she's her career has gone into the stratosphere there's kind of nobody in Italian cinema since you worked with her that she hasn't worked with and here I have to say I think this is an extraordinary performance a a kind of naked vulnerable angry incredibly intense performance and I just wondered if you could talk and and perfectly complimented by Luigi Bacasco as the younger couple but um but can you talk about working with the actors and particularly talking about Alba because that it seems to me that's such a demanding performance from her um how how did you work on that with her? One thing that both actors had in common when they read the first time the copian is that they hated the characters they absolutely hated the characters they didn't want to take into consideration the idea of telling they are beings things I realized they wanted to talk to me about them and they wanted to work as what to do and how to do I have to achieve humanity at this time without any skill I find these individuals and we can not be another human virtue of us.ahan il lavoro che è stato fatto con loro è stato quello di trovare le motivazioni profonde dei personaggi anche nelle loro debolezze e di lavorare moltissimo su un arco narrativo che contenesse sempre tanto sottotesto nelle scene cioè le scene sono sempre progettate affinché la commozione arrivi una sola volta affinché la rabbia arrivi solo una volta affinché lo stupore arrivi solo una volta e la scena che li ha convinti mentre eravamo in prova è stata proprio la prima scena non faccio nessun danno a chi vedrà il film raccontando la primissima scena che gli attori hanno di quella del della confessione che una scena che normalmente viene raccontata con rabbia con stupore con odio gli ho chiesto ai personaggi invece di mettere un sottotesto amoroso sotto questa scena e quello ci ha convinto ha convinto tutti quanti una volta che alba ha percepito che lavorare sul sottotesto trasforma completamente la visione di un personaggio e è stato molto facile portarla a termine lei ha paura di essere la pazza isterica se vogliamo da cliché eh della donna italiana tradita e io spero di aver trovato una strada stretta ma possibile insieme a lei e le sue paure per trasformarla invece in un personaggio in cui potersi rispecchiare molte donne hanno detestato questo personaggio hanno detto madonna non si deve comportare così io sono d'accordo ma neanche un uomo si deve comportare così eppure siamo così una volta che abbiamo accettato la loro imperfezione che ho convinto gli attori ad andare incontro la loro imperfezione tutto è stato più facile and that's really interesting because in you I mean again without giving anything I'm not spoiling is that you have obviously two sets of actors playing the same people over a different time period and we just talked about alba rovaca and levici lacasco playing their younger selves and then brilliant casting laura maranti and silvia orlando and of course um you know how i mean how how difficult was it to cast those older roles and um and what was it like being reunited with silvia orlando because again you worked with him a number of times in 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 your earlier career with things like yes man etc you know so he he had he's had he had an important part in your early career he he acted in a number of films with you for you um and now and did you always think he's the person to play the older aldo was it was it was it was that an easy decision or or was that something that that came over time so to talk to us about the casting of laura maranti and and silvia orlando and what it was to work what it was like to work with him again after this time si si andiamo la vera storia dei lacci è proprio quella del cast questo questo cast è un groviglio di lacci senza fine in cui ci sono attori con cui è veramente condiviso momenti molto antichi delle nostre reciproche carriere ma anche attori con cui avevo in agenda di lavorare per esempio giovanna a mezzogiorno luigi locascio adriano geni cioè tutti gli attori con cui non avevo lavorato erano che avevo in agenda da tanto tempo ma anche laura morante è stata la prima attrice con cui ho parlato in vita mia perché faceva l'assistente alla regia su bianca di danni moretti e l'aiutavo l'assistente a ripassare le battute era un poco più che ventenni entrambi quindi anche per me è stato un rientro la cosa assurda è stata quella delle somiglianze cioè quando una volta che ho stabilito una parte del cast e non starò a dire chi è arrivato prima si è trattato di trovare i loro omologhi da grandi o da piccoli ma questo era un problema insolubile e ho deciso semplicemente di pregarmene di pensare che lo spettatore è talmente desideroso di trovare connessioni legami nei film che vede che può benissimo credere che lo cascio invecchiando diventi silvio orlando può benissimo credere che alba invecchiando diventi laura morante e io ho avuto fiducia nello spettatore mi ha dato pochissimi segnali ed effettivamente questa cosa funziona devo dire che è stato un film in cui mi sono dovuto conquistare moltissimo la fiducia degli attori silvio orlando aveva portato a teatro lo spettacolo da lacci interpretava aldo in tutte le età e nonostante questo io ho l'impressione che tutti quanti detestassero fare il loro personaggio ma volessero fare l'altro tutti mi dicevano ma perché io non faccio quello più grande ma perché non faccio quello più giovane perché non faccio il figlio perché non faccio la figlia questo perché evidentemente questi personaggi così reali sono anche dei personaggi scomodi e comunque devo dire la verità è stato forse uno dei migliori cast che io abbia mai avuto in tutta la mia carriera E' stato fatto tutto come together Daniele io credo che siamo quasi out of our time ma io volevo dire che ho apprezzato che ho apprezzato l'amore dell'amore 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 e alla prossima in a cinema and I hope that happens because it absolutely deserves the opportunity to be in a real cinema space in London but I know that audiences on the platform for Cinema Made in Italy and Movie will really respond to it because it packs a powerful punch and congratulations on a fantastic film and thank you very much for talking to me today thank you very much for your love thank you Film Italia thank you Daniel Lucchetti and you know look forward to everyone seeing The Tires thank you very much